Amici di YouTube ben trovati da Marco Liguori e morta nelle scorse ore, la grande attrice ci lascia un mito del cinema che tra le altre cose aveva interpretato un ruolo memorabile e prima di saperne di più vi ricordo che, qualora questo video dovesse superare i 400 mi piace, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo. In questo video con grande dispiacere parliamo di un gravissimo lotto che ha colpito il mondo del cinema a 75 anni in seguito ad una lunga lotta contro il diabete e mancata la mitica attrice americana Shelley Duvall, la ricordiamo in film molto importanti come Nashville nel 1975, la ricordiamo anche in ION di Woody Allen, ma il ruolo che ha consacrato la grande attrice al pubblico che conta è senza dubbio quello di Wendy Torrance nel mitico film di Stanley Kubrick, Shining con Jack Nicholson, protagonista un film che ha fatto conoscere Shelley Duvall al grande pubblico ad annunciarne il decesso, è stato il compagno di una vita, Dan Gilroy con cui star dal 1989, se ne va un volto noto e riconoscibilissimo nel cinema mondiale tutti quanti noi porteremo nei nostri cuori. La grande Shelley Duvall, che nel nostro immaginario sarà per sempre Wendy Torrance e amici di YouTube. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, seguitemi anche sul nuovo canale di Marco Liguori, Marco Liguori, psicologia e crescita personale, seguitemi anche sul canale di Cronaca, secondo canale di Marco Liguori. Ciao a tutti. Grazie.